Immagina di essere comodamente seduto sul tuo divano, pronto a immergerti in una storia ricca di emozioni, suspense e colpi di scena. Hai mai desiderato sapere cosa accadrà tra Jana e Manuel nella serie La Promessa? Bene, preparati, perché ciò che stai per scoprire potrebbe lasciarti senza fiato. Jana e Manuel hanno attraversato mille ostacoli per arrivare al loro sogno, sposarsi e vivere finalmente il loro amore senza segreti. Dopo tante sofferenze, intrighi e incomprensioni, sembra che il destino stia finalmente sorridendo loro. Manuel, con il cuore colmo di speranza, ha organizzato tutto nei minimi dettagli. Ha trovato un prete disposto a celebrarli in gran segreto, in un eremo abbastanza distante dal paesino di Lushan, lontano dagli occhi indiscreti e, soprattutto, da quelli di Cruz. Non ci saranno invitati alla cerimonia, ma per Jana e Manuel questo è un piccolo prezzo da pagare per poter finalmente essere insieme. Immagina l'atmosfera, un'antica chiesa immersa nel silenzio della campagna, il sole che tramonta all'orizzonte, i due innamorati che si guardano negli occhi, pronti a promettersi amore eterno. Sembra il finale perfetto di una storia d'amore, vero? Ma come in tutte le storie appassionanti, c'è sempre un antagonista pronto a sconvolgere i piani dei protagonisti. Cruz, la donna astuta e manipolatrice che conosciamo bene, non è rimasta con le mani in mano. Grazie a una disattenzione di Maria, che ha scritto sul suo diario Il Grande Segreto di Jana, Cruz è venuta a conoscenza del piano dei due innamorati. Può immaginare il sorriso soddisfatto che si è dipinto sul suo volto quando ha letto quelle parole. Ma cosa farà con questa informazione? Come utilizzerà questa scoperta per i suoi scopi? Il giorno tanto atteso arriva. Jana si prepara, il cuore che batte forte nel petto, emozionata e al tempo stesso un po' nervosa. Manuela aspetta all'altare, impaziente di vederla. Le porte della chiesa si aprono lentamente e Jana fa il suo ingresso, radiosa come non mai. I loro occhi si incontrano e per un attimo sembra che il mondo intorno a loro svanisca. Ma proprio quando tutto sembra perfetto, una figura familiare appare sulla soglia della chiesa. È Cruz, con il suo sguardo penetrante e un sorriso enigmatico sulle labbra. Non ricordo di aver mai visto uno sposo all'altare senza la madrina al suo fianco, esclama, rompendo il silenzio sacro dell'eremo. L'atmosfera si fa tesa. Jana e Manuel si guardano, increduli e preoccupati. Pensavi davvero di poter fare una cosa del genere senza che io lo scoprissi, aggiunge Cruz, lasciando echeggiare una risata beffarda che risuona tra le mura antiche. Il cuore di Jana sembra fermarsi. Tutti i suoi timori si sono materializzati in un istante. Manuel, sorpreso e sconvolto, cerca di mantenere la calma. Ma come possono continuare con la cerimonia ora che Cruz ha scoperto tutto? Cosa accadrà al loro sogno d'amore? La presenza di Cruz minaccia di distruggere tutto ciò per cui hanno lottato così duramente. Nel frattempo, sui social media, l'attrice Eva Martin, che interpreta magistralmente Cruz nella serie, condivide alcuni momenti dal set con i suoi fan. Con tono ironico, pubblica una foto dei due promessi sposi abbracciati, accompagnata dalla scritta Beccati. È un modo divertente per coinvolgere il pubblico e aumentare l'anticipazione per le prossime puntate. Ma torniamo alla trama. Dopo questa clamorosa interruzione, Jana e Manuel si trovano ad affrontare una nuova, difficile sfida. Cruz non è tipo da lasciar correre e la sua determinazione nel separare i due innamorati è più forte che mai. Ma perché tanto astio nei confronti di Jana? Quali sono le vere motivazioni che spingono Cruz a ostacolare la loro felicità? Immagina le notti insonni di Jana, preoccupata per il futuro. Manuel, dal canto suo, cerca disperatamente una soluzione. L'amore che li unisce sarà abbastanza forte da superare anche questa prova? E Cruz, fino a che punto è disposta a spingersi per ottenere ciò che vuole? La tensione cresce, episodio dopo episodio. Ogni sguardo, ogni parola può nascondere un doppio significato. Gli spettatori si chiedono, ci sarà qualcuno disposto ad aiutare Jana e Manuel? Forse un alleato inaspettato entrerà in scena, o forse i due innamorati dovranno contare solo sulla forza del loro amore. Nel frattempo, Cruz potrebbe star pianificando qualcosa di ancora più subdolo. La conosciamo, è astuta, manipolatrice e disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Ma potrebbe esserci una debolezza in lei, qualcosa che Jana e Manuel potrebbero sfruttare al loro vantaggio? La sospensa è alle stelle, non possiamo fare a meno di chiederci come andrà a finire. Riusciranno Jana e Manuel a coronare il loro sogno d'amore, o Cruz avrà la meglio separandoli per sempre? La promessa non è solo una serie televisiva. È un viaggio emozionale che ci porta a riflettere sulle sfide che l'amore deve affrontare. Ci mostra quanto possa essere potente l'astio, ma anche quanto sia forte la determinazione di due persone che si amano davvero. Mentre aspettiamo con ansia le prossime puntate, possiamo solo immaginare quali colpi di scena ci riserverà la trama. Forse Jana troverà il coraggio di affrontare Cruz a testa alta. Forse Manuel scoprirà segreti del passato che cambieranno le carte in tavola. Le possibilità sono infinite e questo rende la storia ancora più avvincente. E tu, cosa pensi che accadrà? Hai qualche teoria su come si evolverà la situazione? Ti invitiamo a condividere i tuoi pensieri e a restare sintonizzato per scoprire insieme a noi quale sarà il destino di Jana e Manuel. Prepara i popcorn, mettiti comodo e lasciati trasportare dalle emozioni che solo la promessa sa regalare. Le prossime puntate promettono di essere ricche di sorprese e non vorrai perderti nemmeno un istante di questa avvincente storia. Il mondo della promessa è pieno di intrighi, amore, tradimenti e redenzione. Ogni personaggio ha le sue motivazioni, le sue paure e i suoi desideri. È facile affezionarsi a loro, vivere le loro emozioni e sentirsi parte della loro storia. Manuel è un uomo deciso, pronto a sfidare le convenzioni sociali pur di stare con la donna che ama. Jana è forte e coraggiosa, ma anche vulnerabile. La loro relazione è autentica, fatta di momenti dolci e difficili, proprio come nella vita reale. Cruz, dal canto suo, rappresenta l'ostacolo che molti di noi hanno incontrato almeno una volta, una persona o una situazione che sembra volerci impedire di raggiungere la felicità. Ma forse anche lei ha le sue ragioni. Forse il suo comportamento nasconde ferite profonde. Questa storia ci insegna che l'amore non è mai semplice, ma proprio per questo è così prezioso. Ci ricorda che vale la pena lottare per ciò in cui crediamo, anche quando tutto sembra perduto. Mentre le puntate avanzano, nuovi personaggi potrebbero entrare in gioco, portando con sé ulteriori complicazioni o forse soluzioni inaspettate. Amici fidati potrebbero rivelarsi traditori e nemici potrebbero diventare alleati. Ogni dettaglio conta, ogni scena può contenere indizi sul futuro. E mentre Jana e Manuel affrontano le loro battaglie, anche noi, spettatori, siamo coinvolti nelle loro vite. Ci emozioniamo con loro, soffriamo con loro, speriamo con loro. È questo il potere di una buona storia. Ci fa sentire vivi, ci fa riflettere sulle nostre esperienze e sui nostri sentimenti. Quindi, se stai cercando una serie che ti tenga incollato allo schermo, che ti faccia provare un turbine di emozioni e che ti faccia battere il cuore, la promessa è ciò che fa per te. Non perdere l'occasione di seguire questa straordinaria avventura. Le prossime puntate saranno cruciali per capire quale direzione prenderà la storia. Riusciranno Jana e Manuel a trovare la felicità che tanto desiderano o il destino ha in serbo per loro altre prove. Solo il tempo potrà dircelo. Nel frattempo, godiamoci ogni momento, ogni dialogo, ogni sguardo che questi personaggi ci regalano. E chissà, forse anche noi potremo imparare qualcosa sulla forza dell'amore e sulla determinazione necessaria per realizzare i nostri sogni. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e non dimenticate di condividere le vostre opinioni. Insieme possiamo rendere questa esperienza ancora più coinvolgente e appassionante. Preparatevi perché il viaggio è appena iniziato e promette di essere indimenticabile.